Buonasera, buonasera Bacoli! Fate un bell'applauso perché questa sera inizia ufficialmente l'ottava edizione della Festa del Mare. Questa Festa del Mare che è organizzata dall'Associazione Gli Amici del Mare che si danno tanto da fare ovviamente per far riuscire a meglio questa Kermess che ormai è diventata famosissima in tutta la regione Campania. Allora volevo ricordarvi che questa serata è la prima serata, da quest'anno abbiamo una serata in più perché gli altri anni si iniziava di giovedì, quest'anno inizieremo da mercoledì, quindi oggi è mercoledì e iniziamo questa Festa del Mare. Però voglio ricordarvi ancora gli appuntamenti che riguarderanno ancora questa villa comunale di Bacoli, a partire da domani sera si terrà la corrida, vi raccomando, accorrete in tanti anche perché voi sarete i protagonisti perché il pubblico lo sapete, alla corrida sono protagonisti perché dovrete fischiare, dovete applaudire magari coloro che si esibiscono su questo palco. E poi venerdì ci sarà la prima edizione del premio Bacoli, questo premio che verrà assegnato alle persone che si sono distinte nelle loro professioni, che hanno dato un qualcosa in più in quello che hanno fatto, ci saranno anche artisti della musica partenopea che verranno a ritirare il loro premio Bacoli con una motivazione specifica per ognuno di loro. Poi sabato l'appuntamento è immancabile ormai qui a Bacoli, quest'anno sarà la terza edizione di Miss Bacoli che è inserita in un concorso di bellezza che è Miss Sud Bella d'Italia che è all'esclusiva regionale per il concorso nazionale Una ragazza per il cinema. E poi domenica ci sarà la serata conclusiva, uno spettacolo musicale, ci saranno ospiti, ci sarà intrattenimento, quindi vi raccomando una settimana da vivere appieno qui a Bacoli alla Villa Comunale in questa bellissima festa del mare, un applauso all'associazione Gli Amici del Mare, forza, fatemi sentire, forza. Allora a questo punto, detto questo io vi do appuntamento alle prossime serate, vi raccomando accorrete in tanti, quindi fate anche un po' di pubblicità, fate venire tantissima gente perché ci divertiremo e poi soprattutto degusteremo le specialità del mare, della zona pregrede. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.